Da domani la campagna vaccinale anti-covid della Asla di Pescara andrà avanti nel nuovo centro allestito negli spazi dell'Outlet Village di città Sant'Angelo, dove sarà possibile ricevere nella stessa seduta vaccinale sia il siero anti-covid che quello anti-influenzale. Operativo insieme ai centri ancora funzionanti di scafa e penne, la Bangolano si candida ad essere un centro nevralgico del prosieguo della campagna anti-covid della Asla di Pescara dopo la chiusura del palafiere d'Anelli di Via Tirino, dove la macchina organizzativa che ha tracciato il percorso dell'immunizzazione è stata esemplare. A parlarcene è il dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale della Asla di Pescara. La scelta è ricaduta sull'Outlet Village di città Sant'Angelo, perché proprio questo posto? Abbiamo cercato delle location presso il comune di Pescara, la città di Pescara, ma erano tutte location non adatte e temporanee, di qualche mese, per cui a distanza di poco tempo avremmo dovuto comunque cambiare sede. Invece la proprietà dell'Outlet Village ci ha messo a disposizione questi quasi mille metri quadri, incomodato gratuito, e volevo solo far presente che la distanza dal centro città è appena di due chilometri superiore a quella da centro città al palafiere. Quindi sono 11 chilometri città Sant'Angelo, centro città, 8 chilometri e 700 centro città palafiere di Pescara. C'era anche la possibilità, diceva, di utilizzare i locali della stazione di Porta Nuova, ma lì c'erano delle criticità da risolvere. Sì, la superficie non era sufficiente a poter permettere sia un'attesa pre-vaccinale che post-vaccinale, quindi l'attesa pre-vaccinale doveva essere fatta all'esterno. E siccome andiamo incontro all'inverno, quindi non ci è sembrato il caso di trovare in quella sede, di effettuare in quella sede. Le percentuali dei vaccinati ci confortano e ci permettono anche di sperare in un ritorno davvero alla normalità. Tra l'altro dall'11 ottobre teatri e cinema ritorneranno anche con una capienza al 100% per chi ha il Green Pass. Insomma, ci stiamo svegliando quasi da questo incubo, possiamo dirlo? Sì, come popolazione totale la provincia di Pescara ha il 78% di vaccinati con una dose, mentre sulla popolazione vaccinabile saliamo quasi all'87% con una dose e al 76% con tutte e due le dosi sulla popolazione vaccinabile. Inoltre i dati ultimi che indicano la provincia di Pescara come una delle province a più basso impatto per pazienti con Covid e questa probabilmente è dovuta alla buona vaccinazione che abbiamo fatto che si è diffusa su tutto il territorio provinciale contemporaneamente senza lasciare delle sacche territoriali senza vaccino. Per cui diciamo che la progressione della vaccinazione qui è stata uniforme su tutto il territorio provinciale.